Allora siamo dal vivo, per tutto buonasera a tutti gli amici di Codice Rosso e buonasera a tutti gli amici intervenuti per questa prima sessione seminariale organizzata alla redazione, una sessione che riguarda temi di innovazione e anche di rottura filosofica che ha come primo ospite Ubaldo, cioè Ubaldo Fadini e ha come discusant Paolo, cioè Paolo Lago. Si tratta ovviamente di un ciclo che la volta successiva vedrà Maglio Ioffrida, che a sua volta presenterà il suo testo sulla filosofia dell'ecologia, ma stavolta tratteremo un altro tipo di tema. Ora io due o tre questioni voglio dire in apertura. Innanzitutto, vista la natura della nostra testata, non possiamo ovviamente non ricordare la recente scomparsa di Diagarmando Maradona, perché non si tratta solamente di un personaggio calcistico, ma di una vera e propria rottura antropologica nello sport, che noi chiaramente ricordiamo con questa sessione. Detto questo, come da consuetudine della casa, cioè come da consuetudine di Codice Rosso, il nostro ospite, il nostro ospite gradito di oggi, si presenterà da solo, ma ovviamente chiederò al nostro ospite di spendere due parole in più, se possibile, sull'esperienza di Officine Filosofiche, di cui insieme a Maglio Ioffrida è animatore, visto che Codice Rosso serve proprio anche come mirror per questo genere di esperienze, per questo genere di laboratori. Codice Rosso è un laboratorio politico e culturale, Officine Filosofiche è un interessante laboratorio teorico, Ubaldon è uno degli animatori insieme a Maglio, se riuscisse a spendere due parole in più a noi farebbe estremamente piacere. Detto questo, il tema centrale di oggi si gioca attorno a una questione teorica e fenomenica di primordine della modernità, ovvero sia la velocità, sia intesa come concetto, sia intesa come fenomeno. Noi dobbiamo stare qui attenti a un aspetto. Solitamente il paradigma antropologico della velocità subisce, nella teoria attuale, una divaricazione piuttosto scontata, ovvero sia velocità e accelerazione vengono concepiti o come spossessamento dell'esperienza del sé e dell'autenticità sociale, oppure direttamente al contrario come strumento di emancipazione. Si tratta più che di letture di vari canti, si tratta probabilmente dei confini nei quali dobbiamo intendere il processo di velocità e quello di accelerazione e che riguardano, ovviamente siamo attenti, tutte le società, perché non esistono società che non accelerano, cioè che non accelerano dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista dei comportamenti sociali. Io faccio un esempio storico, la Cina e il Giappone a lungo sono state concepite come società statiche e oggi noi le concepiamo come una società dove i processi di accelerazione sia sociale che tecnologica sono di grande forza. Oppure dobbiamo anche considerare che ci sono società che decelerano come l'Italia del declino demografico, su cui sarebbe anche fare un'interessante in questa serie di discussioni sul rapporto tra decelerazione dei processi sociali, mortificazione dell'innovazione e declino demografico, però questo ci porterebbe lontano, ma nel tema di oggi ci porta soprattutto su una questione essenziale, cioè che velocità e accelerazione trattate nel testo di Ubaldo da un punto di vista centrale, cioè quello antropologico-filosofico, fanno parte pienamente dei concetti e dei fenomeni strategici della nostra modernità. Dobbiamo stare attenti a un altro aspetto, che nelle nostre società, cioè le società moderne e poi successivamente post-moderne, il concetto di accelerazione e quello di velocità si sono sostanzialmente emancipati dal portato culturale precedente che li conteneva, ovvero sia quello della cultura religiosa, perché prima della modernità il concetto di accelerazione di velocità sono legati a quello di Apocalisse e nel nostro mondo, nel mondo moderno, cioè successivo alla rivoluzione francese, finiscono per i versanzi, sia accelerazione che velocità, in modo controverso nel concetto di rivoluzione. Però qui bisogna stare attenti che il concetto di rivoluzione nella nostra modernità è stato troppo spesso analizzato sul piano della rivoluzione politica, dimenticando che la rivoluzione nella nostra società è anche una rivoluzione tecnologica. Quindi in questo senso velocità e accelerazione appartengono alla modernità legate e intrecciate al concetto di rivoluzione o in termine strettamente politico, cioè la velocità e l'accelerazione come l'approssimarsi repentino di una nuova epoca o di una nuova società, oppure la continua riterazione del nuovo grazie alla velocità e l'accelerazione tecnologica. Ora, quindi è interessante notare come quindi nel nostro mondo, nelle nostre società, il concetto di rivoluzione sia legato o alla politicizzazione dei processi di accelerazione o alla tecnologizzazione dei concetti di accelerazione. Ora, il lavoro di Ubaldo analizza il concetto di velocità, avendo Virilio come autore centrale e di riferimento all'incrocio tra la dimensione politica aperta dai processi di accelerazione storica e la sua spolicizzazione, il suo intrecciarsi con la dimensione tecnologica. Infatti questo testo, a mio avviso, si dispone come un vero e proprio lessico della dromologia, cioè la dromologia intesa come scienza della velocità codificata da Paul Virilio. Se andiamo a vedere i capitoli, si possono leggere e analizzare anche come lemmi di un lessico. Infatti i capitoli si chiamano percezione, soggetto, bunker, arte, protesi, corpi viventi, intestizi, io allentato, negativo tecnico, riprendere tempo. Cioè, sostanzialmente abbiamo un lavoro di composizione di un lessico della velocità entro un crinale che sta tra politicizzazione e spoliticizzazione, tra spossessione e possibilità di innovazione sul piano percettivo e delle teorie del soggetto. Quindi questo lessico, a mio avviso, va letto all'interno di questo contenitore. Ora, mi viene fuori un testo di stimolo, non solo per l'autore, che insomma dietro di sé ha testi importanti, ma anche perché sta al centro di questi processi di accelerazione, non alla periferia, che è un po' un aspetto per questo lessico curioso. Ora, per esempio, Ubaldo a lungo, come filosofo, ha sempre tutelato la filosofia dei margini, intesa non solo come produzione di eccedenza, ma anche di novità. Questo lessico, invece, paradossalmente, sta al centro di un fenomeno, l'accelerazione intrecciata alla velocità, e ne dispone, ne vede non solamente limiti, ma anche il cuore della discussione all'interno di un lessico ben evidenziato. Per quanto mi riguarda, prima di passare la parola a Ubaldo, il tema, cioè questi temi teorici si intrecciano attorno a questa figura di Paul Verilio, che non è solamente colui che ha, prima di tutto, fatto capire sul piano antropologico-politico il rapporto tra velocità e politica, ma anche il che cos'è una filosofia della percezione nel momento in cui i processi di accelerazione di velocità si impongono, diciamo, all'attenzione globale. Quindi, in questo senso, in questa cornice, vi lascio volentieri ad Ubaldo, che ci dirà ciò che ritiene opportuno su questo lessico della velocità e dell'accelerazione tramite Virilio, al quale ha lavorato. Ovviamente ringraziandolo per la presenza e ringraziandolo per l'attenzione alla nostra testata. Grazie Silvano, sono io che ringrazio te e tutti gli amici, gli amici di Codice Rosso, per l'occasione che mi date di parlare di questo testo. È un testo a cui sono particolarmente affezionato, perché è espressione, per così dire, di una lunga fedeltà a Virilio, che affonda le sue radici addirittura in quel periodo, in quella stagione della fine degli anni 70, dei primi anni 80, stagione che vide da noi in Italia appunto una prima conoscenza del lavoro di Virilio. I lavori, i primi lavori di Virilio, d'altra parte sono degli anni 70, penso al lavoro molto importante che ha al centro i temi, i motivi del potere, della politica e della velocità, motivi che già Silvano ha richiamato, oppure all'altro testo importante, quello sull'estetica della sparizione. È un testo, dicevo, per me è importante su un piano anche, come posso dirvi, su un piano emotivo, perché è stato occasionato purtroppo dalla scomparsa di Virilio, che è morto un paio di anni fa, nel 2018. Virilio appartiene a quella straordinaria generazione intellettuale in Francia, che ha visto tra i suoi esponenti più importanti, Michel Foucault, Deleuze, Derrida, Lyotard, eccetera, eccetera, ecco questo tanto per minimamente inquadrarlo. Quello che ha motivato però la scrittura di questo testo, al di là del giusto, corretto per me, omaggio al lavoro, all'impresa teorica di un maestro, si può utilizzare questo termine, che non è un'etichetta per Virilio. Quello che ha in fondo sorretto, insomma, sostenuto questo mio lavoro, è stato anche il bisogno di fare i conti con una urgenza, con una emergenza che oggi poi in modo particolare è accentuata, no, della situazione che stiamo vivendo. Una urgenza, una emergenza che in ambito filosofico, filosofico-politico, in ambito antropologico, di una certa antropologia, in ambito soprattutto sociologico, viene tradotta in questi termini. Noi assistiamo oggi a una perdita, per dirla un po' in filosofese, a una perdita di mondo. Noi abbiamo ancora di fronte il problema, la questione importante di come vivere nel mondo, di come vivere appunto in una situazione che è fortemente, sempre più fortemente condizionata da tante variabili, ma alcune sono anche delle costanti e la costante, quella decisiva, quella essenziale, è data dalle trasformazioni, dalle trasformazioni, dai cambiamenti che sono in fondo, si può dire anche così, epocali del nostro modo di produrre valore, di produrre ricchezza, di produrre per qualcuno, per pochi, profitto. Noi abbiamo ancora di più questo problema di fronte a noi di recuperare mondo, di recuperare realtà. Un mondo, e Viriglio in questo è stato veramente, lo ripeto, un maestro, un mondo che si è sempre di più ridotto, ridimensionato, in un modo che assolutamente non permette ai soggetti, agli esseri umani di soddisfare quelli che sono i loro bisogni, quelli che sono anche le loro aspirazioni, i loro desideri. Viriglio è un autore fondamentale, proprio perché ha sentito questa necessità in termini francamente originali, cioè di porre la questione del mondo nel momento in cui il mondo si riduce, viene a essere ridotto per tante cause, per tanti motivi, tra i quali va segnalato un determinato uso, che una volta si sarebbe detto tanti decenni fa, ma vale la pena riproporla la formula, si sarebbe detto un uso capitalistico delle macchine, della tecnologia. Viriglio non è un autore tra virgolette apocalittico, non è un autore tra virgolette nichilista, è un tecnico, sa ciò di cui parla, affronta certe progressioni tecnologiche segnalando di queste progressioni tecnologiche i pro e i contro, le positività e le negatività, quelle negatività che di solito vengono, sono state messe tra parentesi, sono state anche in maniera strumentale rimosse, portate fuori dall'orizzonte dell'analisi, dall'orizzonte dell'indagine. Viriglio è uno studioso della progressione tecnologica nel complesso delle sue articolazioni, attento ovviamente a sottolineare i successi di tale progressione, ma altrettanto attento, posso dire anche di più, a segnalare i possibili difetti, gli insuccessi, gli incidenti che sono propri di qualsiasi progressione, di qualsiasi sviluppo tecnologico e che spesso e volentieri vengono a essere rimossi, vengono a essere nascosti per celebrare soltanto i successi, soltanto le magnifiche sorti e progressive dello sviluppo tecnologico. La perdita del mondo, il fatto che noi siamo portati, siamo tenuti anche nel momento in cui ci presentiamo come soggetti di lavoro, siamo tenuti a supportare, a sostenere le nostre prestazioni di qualsiasi tipo utilizzando, impiegando determinate tecnologie, in un senso ben definito, in un senso che non è assolutamente neutro, non è assolutamente innocente. Il fatto che noi siamo tenuti a articolare, a realizzare determinate prestazioni impiegando certe tecnologie in una determinata direzione e questo fatto qui porta, secondo Viriglio e dell'aspetto forte della sua presa di posizione, a perdere da una parte sensibilità e dall'altra parte intelligenza, a perdere cioè quei fattori della nostra soggettività, delle nostre pratiche di soggettivazione che ci permettero, ci potrebbero consentire di avere uno sguardo sul mondo, uno sguardo sulla realtà un po' più articolato, un po' più capace di cogliere la ricchezza, la varietà del mondo, di individuare anche quei dettagli che possono venire utili per trovare mezzi, motivi, ragioni ma soprattutto spazi di soddisfazione di quelli che sono appunto i nostri bisogni e i nostri desideri. La questione di come vivere è fondamentale, centrale in Viriglio, come vivere nel mondo nel momento in cui il mondo viene sempre di più a essere tecnicizzato, è tradotto tra virgolette in macchine e questo è un bene per Viriglio, ma viene tradotto in macchine secondo una logica di traduzione che comporta un indebolimento della nostra sensibilità e della nostra intelligenza, della nostra capacità generale di comprendere quello che sta accadendo, quello che ci sta accadendo e quello che sta accadendo davanti a noi. L'effetto, uno degli effetti di questa perdita, di questo impoverimento è anche, e questo lo dobbiamo sottolineare secondo me da un punto di vista più propriamente filosofico-politico e filosofico-sociale, uno degli effetti più importanti di questo impoverimento, di questo impoverimento è che il legame sociale viene a essere, per così dire, a sua volta indebolito. In Viriglio ci sono delle pagine importanti che a me piace sempre, divertendomi un po', collegare a certe analisi di Elias Canetti in Massa e Potere. Ci sono delle pagine importanti sul fatto che in Viriglio ci sono delle pagine importanti che sottolineano questo modo di porsi, di disporsi nei confronti della realtà, nei confronti direbbe Paolo Lago, insomma, delle arterità, di un disporsi che è un disporsi difensivo, è un disporsi addirittura di segno di carattere repulsivo, di rifiuto dell'altro come invece soggetto di una possibile amplificazione, insomma, dei modi di sentire, dei modi di vedere, dei modi di considerare la realtà. Per Viriglio questa modalità percettiva complessivamente repulsiva, che è propria del soggetto contemporaneo, che tende sempre di più a isolarsi, questa modalità percettiva è fondamentalmente supportata e sostenuta, alimentata da determinati sviluppi, da certe progressioni tecnologiche che sono a loro volta assegnate da un loro impiego, da una loro spesa che è quella voluta, quella imposta dalle logiche della valorizzazione di capitale, dalle logiche, diciamo così, della valorizzazione continua e incessante del valore. Non che Viriglio sia un teorico radicale, anche se poi appartenendo a quella generazione è chiaro che ha sempre sviluppato uno sguardo critico nei confronti della società contemporanea. Ma io trovo un punto, una punta di radicalità nel discorso di Viriglio, proprio nel momento in cui l'analisi dei processi di tecnicizzazione della realtà non risulta veramente fino in fondo ingenua, talmente ingenua da rassentare la complicità rispetto a quelle che sono le effettuazioni date della progressione tecnologica e quindi è una sorta di valorizzazione, ma si fa finta di no, da una certa logica di valorizzazione, dei modi di esistenza, dei modi di pensare, dei modi di sentire, una valorizzazione che ovviamente non può che fare riferimento, non può che rapportarsi poi alla logica del plus valore, no, per dirla in modo gergale, molto veloce, molto rapido. Alcuni elementi, insomma, giustamente Silvano, se questo che vi ho detto finora è abbastanza netto, poi magari ci ritorno su alcuni degli aspetti che stanno alla base di questa sintesi rapidissima, insomma, che ho cercato di fornire, un elemento che ha sottolineato Silvano, che io trovo molto importante e che traduco così, ecco, mi sembra opportuno proiettarlo ancora di più sul lavoro complessivo di Viriglio, questo elemento è dato dall'idea che affiora anche in Viriglio, è vero che viene fuori anche in altre aree di ricerca, di indagine della cultura filosofica e non soltanto filosofica del Novecento. Questo elemento, insomma, che viene fuori in Viriglio è la convinzione propria di Viriglio che se si dà una evoluzione, una progressione specificamente rivolta a ciò che noi siamo, come esseri pensanti e come esseri senzienti, e se c'è una evoluzione, questa evoluzione è senz'altro dettata anche da un arricchimento dei mezzi e degli strumenti di natura tecnica, ma è anche questa evoluzione determinata da progressive mosse di disattivazione, disattivazione di ciò che l'essere umano lentamente e progressivamente nel corso della sua storia è riuscito a realizzare, a mettere in piedi per avere poi un rapporto, una relazione con la realtà minimamente soddisfacente, in grado di garantirgli dei margini di sopravvivenza, di conservazione in vita. La progressione tecnologica, questo è l'insegnamento di Viriglio, la progressione tecnologica è sempre accompagnata da processi di disattivazione di tutto ciò che l'essere umano di buona parte, adesso non voglio esagerare, di buona parte di tutto ciò che l'essere umano nel corso della sua vicenda complessiva è riuscito a mettere in piedi. La disattivazione è una modalità decisiva, essenziale di strutturazione da parte dell'essere umano, della sua storia. Si mettono in piedi dei dispositivi per orientarsi meglio nella realtà, nel presente, per orientarsi meglio in modo più soddisfacente nella realtà, per avere un rapporto più positivo con il mondo, si mettono in piedi dei dispositivi appunto di natura tecnica e la vicenda però complessiva dell'essere umano comporta che cosa? Che parte di questi dispositivi tecnici realizzati in un determinato momento siano superati, siano abbandonati o siano comunque diciamo così correlati a qualche cosa di diverso, sempre a livello di dispositivi in grado prima o poi appunto di soppiantare quelli già presenti, quelli che già sono, vengono utilizzati appunto per cercare di orientarsi, di avere una direzione di movimento all'interno della realtà, all'interno di spazi ben definiti. Ecco la lezione di Viriglio, è qui che Viriglio recupera ambiti importanti della ricerca, ripeto, filosofica, sociologica, antropologica del Novecento. La lezione di Viriglio consiste in questo, non è banalmente un esaltato della tecnologia, non è banalmente un pensatore tecnofobico, no? Non è questo, non è questo Viriglio, no? Spesso e volentieri lo si legge in questi termini e secondo me, a mio avviso, è un errore irrimediabile, di fatto irrimediabile, no? Il modo per evitare di commettere tale errore è quello di vedere appunto in Viriglio uno studioso che prima di tutto sa di ciò di cui parla, uno studioso della progressione tecnologica che individua un senso di tale progressione nella modalità del disattivare ciò che si realizza a un certo punto. Non si capisce niente della progressione tecnologica complessiva se non si porta l'attenzione anche su questo elemento, sul momento, sul processo del disattivare. Ecco, questa è una lezione importante di Viriglio ed è una lezione importante perché nel momento in cui si dimentica l'importanza e il significato del disattivare, ecco che ci si consegna a un'immagine di una realtà tecnicizzata che non sembra lasciare spazio a delle dinamiche di sua trasformazione importante, veramente radicale, veramente innovativa. In questa ottica, in questa prospettiva, cioè nella segnalazione del carattere eccessivamente fisso di determinate rappresentazioni della realtà tecnicizzata, a mio modo di vedere nella segnalazione critica di tutto questo, Viriglio può essere anche di rete per gioco, ma insomma bisogna anche un po' giocare quando si fa in questa analisi, può essere messo anche in relazione, in collegamento con alcune espressioni dell'immaginario contemporaneo, soprattutto ovviamente della seconda metà del secolo scorso, che ha letteralmente lavorato il carattere fisso di una certa rappresentazione e raffigurazione della realtà tecnicizzata. Io appunto in questo testo, in maniera un po' marginale, che può sembrare marginale, ma che in effetti non lo è, e spero di averlo anche adesso spiegato il motivo per il quale non lo è, in questo testo mi diverto anche a segnalare come era già stato fatto anche da amici purtroppo scomparsi, come Antonio Caronia e altri, insomma, amici e compagni che hanno lavorato questi piani di ricerca. Io mi diverto a collegare, non so, Viriglio, certe analisi di carattere appunto dromologico di Viriglio con la fantasia di Ballard, oppure con certe articolazioni della ricerca cinematografica di Cronenberg, oppure con alcune osservazioni addirittura di Thomas Pynchon sull'accidia, cioè su una reazione rispetto al consumo della dimensione, del carattere senziente dell'essere umano che poi trova un'espressione fantastica a livello letterario appunto nel personaggio dello scrivano di Melville o in alcuni personaggi, insomma, importanti della letteratura, della scrittura di Pynchon oppure anche di Peter Hunt, che insomma, io mi sono divertito anche a segnalare questa forte contemporaneità della lezione di Viriglio, non collocandola, ed è il lavoro che ho fatto ovviamente, soltanto, unicamente all'interno di una dimensione di ricerca filosofica, sociologica, tecnicamente, tecnologicamente avvertita. Mi sono invece proposto, e ho cercato di fare anche questo, di sottolineare l'importanza, la contemporaneità della ricerca di Viriglio, mettendolo anche a contatto con alcune delle espressioni della creatività, insomma, nostra, che a mio modo di vedere, sono comunque espressioni di un sentire critico nei confronti di una riduzione della nostra realtà, del nostro mondo, soltanto, unicamente ad alcune sue immagini, rappresentazioni fisse, che si pretendono addirittura fissate una volta per sempre. L'ultimo punto, 30 secondi, officine filosofiche giustamente richiamate da Silvano, officine filosofiche è un laboratorio di ricerca all'interno del quale c'è una forte attenzione nei confronti di un terreno di analisi di carattere ecologico, e anche qui, di carattere ecologista, anche qui mi preme ricordare come Viriglio, non lontanissimo qui dalla lezione di Guattari, di Deleuze e Guattari, ma soprattutto di Guattari, mi preme ricordare come Viriglio abbia messo in piedi un'analisi fantastica, un'analisi veramente importante, distinguendo tra la cosiddetta ecologia verde, quindi quell'attenzione ai problemi dei nostri ambienti di vita, attenzione di un certo tipo, anche politicamente fortemente contrassegnata, abbia messo accanto a tale attenzione, un'attenzione che per Viriglio dovrebbe essere altrettanto coltivata ed è altrettanto importante a una cosiddetta ecologia grigia che investe non soltanto gli spazi di esistenza, non investe unicamente gli ambienti di vita, ma i nostri tempi di vita, investe i regimi di temporalità, investe quelle condizioni del nostro vivere temporale e quelle condizioni che appunto per Viriglio sono fortemente segnate dal fatto che noi dobbiamo collocarci all'interno di un quotidiano, un quotidiano all'interno del quale vale appunto soltanto la logica della prestazione di un certo tipo, di un certo segno. Oltretutto noi oggi ci troviamo all'interno di un quotidiano che non vede più distinzioni tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, un quotidiano che così come è determinato attualmente sembra corrispondere per non dire poi invadere e schiacciare tutti gli altri spazi possibili di esistenza. Ma insomma, ho già detto troppo e quindi mi fermo qui ringraziando ancora tutti gli amici di Codice Rosso per l'attenzione che hanno dimostrato. Ubaldo, prima di tutto grazie, poi sei consapevole che con noi puoi farlo a quanto ti pare, non ci sono limiti da questo punto di vista. Ora, ringraziando Ubaldo per un intervento, poi Paolo Lago e io commenteremo, discuteremo con Ubaldo dei temi che sono emersi, prima di passare la parola a Paolo, ricordo che chi vuole fare domande sulla chat risponderemo a una a una, cioè dopo l'intervento di Paolo vedo c'è già un intervento di Federico Montanari che saluto e ringrazio. Chi volesse fare qualsiasi genere di intervento è benvenuto e li passiamo Ubaldo e discutiamo fra di noi. Detto questo, passo volentieri la parola a Paolo Lago della nostra redazione. Ecco, grazie, grazie Silvano, grazie Ubaldo per questa bellissima spiegazione del tuo libro che io ho trovato molto interessante e che mi ha fatto venire in mente diverse suggestioni. Innanzitutto vorrei partire però da alcune suggestioni che mi sono venute in mente ascoltandoti. Quando parlavi di Virilio e parlavi della perdita di mondo, perdita di mondo che subiamo in seguito a questa accelerazione, a questa velocià, mi ha fatto venire in mente il titolo di un libro, di un saggetto, di un sociologo francese che è stato tradotto recentemente per Eleutera che lui si chiama Rodolphe Cristin, si chiama Turismo di massa e usura del mondo. Ecco, questa perdita di mondo, usura del mondo. Il turismo di massa, secondo Cristin, fa perdere, usura il mondo, ecco, ci fa perdere il vero contatto con il mondo. Quindi il turismo, la velocità del turismo, un approccio falso ai luoghi, che instaurano approccio falso ai luoghi, pensiamo soltanto ai vari villaggi vacanze, eccetera, eccetera. Ecco, per Cristin invece un nuovo approccio al mondo è quello di un riuso popolare dello spazio e dei luoghi. Questa è una prima suggestione che mi era venuta in mente. Un'altra era quando hai parlato di sporsi difensivo nei confronti dell'alterità. Quindi, ecco, l'alterità in questa società della trasparenza, come dire, mi ha fatto venire in mente un altro filosofo, che è Byung Chulhan, che tra l'altro citi anche nel tuo saggio, quando parla di società della trasparenza, Chulhan dice che non c'è più posto per l'altro, è una società di uguali. Quindi, una società tecnologica in cui l'altro viene quasi stigmatizzato, viene allontanato per forza di cose, perché deve essere una società, la società della tecnologia, lui dice, deve essere per forza di cose fatta di uguali. Detto questo, torno un attimo indietro e dico brevemente quello di cui è il discorso che mi ero preparato stasera. C'è qualche osservazione sulla velocità nella letteratura, questa velocizzazione nella letteratura, nel corso del Novecento. Hai già fatto diverse suggestioni interessantissime, rimandi alla letteratura, al cinema, fra cui Ballard, Cronenberg, sicuramente molto interessanti. Io volevo riprendere un po' un discorso nel corso del Novecento. Ho notato, nel corso del Novecento si può notare, una velocizzazione proprio anche dello stile narrativo, nonché del mettere al centro delle trame, di molte opere narrative, il viaggio, proprio il tema del viaggio. Un tema che sarà poi tematizzato, l'erranza e il nomadismo, proprio da Deleuze e Guattery in Mille Piani. Io comincerei con Il viaggio al termine della notte di Céline, del 1932, in cui si vede che è un personaggio, un protagonista dedito all'erranza, al nomadismo incessante. Il viaggio, i viaggi incessanti del protagonista, alter ego dell'autore, che si chiama Bardamou, appunto nel romanzo di Céline, i viaggi si riflettono in una struttura narrativa estremamente nomadica e errante anche essa stessa. Quindi una nuova, quasi una rivoluzione del modo di narrare, quasi sulla scorta di Joyce, già del flusso di coscienza. Però è un'erranza, è un nomadismo, è una velocità che non portano a niente di positivo, ma hanno un risvolto negativo, verso lo schifo e l'orrore, e risvolti più bassi e trucci dell'esistenza. Questo in Céline. Ma nel corso del 1900, passano qualche anno, e incontriamo negli Stati Uniti la Bit Generation, Kierak, laddove quella stessa voglia di erranza, pulsione all'erranza, al nomadismo e alla velocità, invece è qualcosa per questi, e per la Bit Generation è qualcosa di positivo, quindi la nuova visione di un mondo, la nuova visione anche di una concezione della vita, in questo senso. Se guardiamo invece all'Italia, io mi soffermerei su un autore, su un romanzo, uscito per la prima volta nel 1963, che è Fratelli d'Italia di Alberto Arbasino, perché riflette bene un po' l'Italia del boom economico, in questo periodo. e ancora una volta il viaggio, il viaggio incessante e la velocità, caratterizza la narrazione. I personaggi si spostano da Roma a Napoli, da Venezia a Amsterdam, da Monaco di Baviera a Londra, quindi all'interno di uno stile ellittico, quindi con frequenti sospensioni, frequenti salti narrativi, accelerazioni sempre del ritmo narrativo. E poi emerge un altro elemento, tipico della contemporaneità e del boom economico, anche italiano e soprattutto, che è l'automobile, di cui anche farli anche nel tuo saggio. L'automobile come emblema dell'uomo macchina, quasi dell'uomo velocizzato, questa macchina che divora il tempo, che usura il mondo, che non c'è più tempo, non c'è più spazio, quasi un oggetto precursore della contemporanea alta velocità. E quindi un altro simbolo della velocità che si trova nel romanzo di Arbasino, legato al viaggio dell'Italia nel boom economico di quegli anni, è l'autostrada, quindi l'autostrada del sole, la costruzione delle prime autostrade. Quindi automobile e autostrada, ma del resto questo, la macchina, l'automobile, la motocicletta, si ritrovava anche negli autori della Beat Generation, e ancora in un autore come Nabokov, ad esempio che ci mostra in Lolita, poi portato al cinema da Kubrick, Lolita ci fa vedere proprio l'immagine, tutto dominato da una velocità, una propria velocità narrativa, in cui il personaggio e la ragazza si spostano da un motello all'altro in automobile. Quindi anche qui un nuovo reticolo, quindi un nuovo reticolo di viaggio, in cui ogni luogo sembra più vicino di quello che è in realtà. E a Monte di Arbasino mi era venuto in mente un altro importante romanzo, un altro importante autore e opera, che addirittura nel 1700 aveva stravolto i canoni più tradizionali della narrativa di viaggio, che è Lawrence Stern, con Tristram Shandy e con il viaggio sentimentale. Il viaggio sentimentale, il viaggio inizia in modo improvviso, rapido, repentino, e qui Lawrence Stern stravolge i canoni della letteratura di viaggio settecentesca e del viaggio, del Grand Tour settecentesco, quindi che aveva invece un ritmo lento e calibrato. E Arbasino non a caso usa come suo modello privilegiato proprio Lawrence Stern, sia nel viaggio sentimentale, sia nel Tristram Shandy, che è appunto anche nel Tristram Shandy c'è un viaggio del protagonista Tristram, anche questo innescato in modo estremamente molto repentino. Questo per quanto riguarda la letteratura italiana degli anni Sessanta, ma questo elemento che caratterizza l'ipermobilità della società anche postmoderna degli anni Sessanta, Settanta si ritrova in altri autori, basti pensare Calvino, Pasolini, in altri romanzi che escono anche successivamente negli anni Ottanta. Nel cinema invece, mi era venuto in mente sempre una suggestione cinematografica, prima ancora degli anni Ottanta e Settanta, siamo in un film del 1955 che è Rapporto Confidenziale, chiamato anche Mr. Arcadio di Orson Welles, in cui c'è quasi una nuova concezione del mondo. Nel 1955 siamo solo circa dieci anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi un mondo devastato, però un mondo in cui si riscopre una nuova dimensione di viaggio. Il protagonista è un personaggio che si muove, il protagonista che è un contrabbandiere che deve scoprire l'identità nascosta del protagonista, Mr. Arcadio, che poi è Orson Welles del film, e per scoprirla si muove da un angolo all'altro dell'Europa e del mondo. Nel film si vede bene che lui in modo velocissimo prende l'aereo, si sposta, va da Tunisi a Parigi, poi a Monaco di Baviera, poi va in Inghilterra, quindi questa velocità è mostrata nel film attraverso le immagini dell'aeroporto, delle destinazioni dell'aeroporto ancora nei luoghi dove lui si sposta. È quasi una velocità che precorre l'attuale velocità dei nuovi spostamenti in aereo, dei nuovi non luoghi che sono diventati gli aeroporti. Un altro film che volevo ricordare è Alice nelle città di Wim Wenders, anche qui il viaggio è dominato da una velocità, qui siamo 20 anni dopo il film di Orson Welles, una velocità, anche qui è presente il non luogo dell'aeroporto, molto presente, e anche qui il personaggio si sposta quasi in modo repentino, rapido, in modo quasi senza una vera e propria meta perché loro stanno in Alice delle città e lui va a cercare la famiglia di questa ragazzina che si è perduta e non riesce a trovare. Quindi la casualità, la velocità, l'erranza e il nomadismo è il tutto condito da una buona dose di velocità che caratterizzano questi spostamenti. E chiudo con un romanzo più recente che si chiama Zona di Mattia Senard del 2008 e qui è un romanzo, innanzitutto l'autore usa uno stile narrativo molto rapido, veloce, perché è usato quasi lo stile, quasi una specie di flusso di coscienza, una narrativa, uno stile senza punteggiatura. E poi avviene proprio, la narrazione del romanzo avviene proprio su un treno, il protagonista sta viaggiando su un treno da Milano a Roma. Ecco, quindi siamo addirittura all'interno di uno spazio come direbbe Foucault o comunque altri teorici che, come tu dici anche nel tuo saggio, hanno un po' stravolto questo termine in uno spazio eterotopico, quindi una specie di eterotopia della velocità e del viaggio, un mondo, un universo viaggiante, una vera e propria eterotopia. Ecco, queste sono le suggestioni più o meno che mi erano venute diciamo da un excursus, un viaggio, a mia volta ho fatto un viaggio anche rapido, veloce, attraverso un po' di lettura, attraverso un po' di letteratura e un po' di cinema. Bello, bene. Paolo, prima di tutto grazie per questa eterotopia del viaggio nella quale abbiamo riconosciuto ben volentieri film vicini e lontani, mi sono ricordato anche un po' dei passaggi di Céline che ora non è il caso di ripercorrere. Allora, io farei dialogare Ubaldo e Paolo su questi temi ricordando anche però l'inciso che ci aveva lasciato Federico Montanari e che ringraziando Ubaldo dicendosi molto d'accordo su questa lettura di Virilio, cioè né tecnofobico né tecnoentusiasta ricordava il contributo su Virilio del recentemente scomparso Paolo Fabri sul concetto di incidente e su questo penso come dire ti passo una palla di grande interesse e poi abbiamo un'altra considerazione di Giacomo Onesta lo ringrazio dell'intervento che sostanzialmente si esprime in questo modo ovvero sia pensa che l'accelerazione della digitalizzazione dello spazio abitativo delle nostre case siano sostanzialmente una perdita di mondo e ciò che resta accessibile del mondo lo è attraverso la rete e i device che ci interfacciano tra mondo e rete riguarda la disattivazione di ciò che è l'essere umano mi viene a mente un collegamento con il concetto di Elega di Bruno Latour anche questa è una considerazione direi molto interessante sia come si potrebbe dire perché fissa fenomenologicamente la perdita di mondo ma anche per un'altra questione cioè il richiamo di notevole interesse di Bruno Latour all'interno di questo di questo concetto io vorrei aggiungere proprio due cose perché c'è di fronte a un piatto cioè a un menù così ricco apparecchiato da Paolo Baldo è evidente che come su quelle feste in cui fa piacere portare qualcosa non so se mi spiegano allora c'è un aspetto molto importante di cui Virilio è consapevole e un aspetto per il quale è stato studiato in ambiti forse diciamo meno conosciuti anche alla filosofia più eterodossa ovvero sia gli studi amministrativi gli studi di amministrazione di alta amministrazione che ha avuto la fortuna di scoprire sia il rapporto a Lacan che il rapporto a Virilio ora c'è una scuola ben precisa che in Gran Bretagna fa capo Edward Cooper che è stato un grandissimo sociologico e antropologo delle amministrazioni che sostanzialmente riprende Virilio su un tema essenziale cioè la capacità di saper vedere nei processi di accelerazione quei processi di aggregazione sociale che ovviamente l'amministrazione deve regolare quindi Virilio viene sostanzialmente utilizzato come un antropologo dell'aggregazione sociale tramite i processi di accelerazione ma anche e questo è un altro contributo specifico della scuola di Cooper viene utilizzato soprattutto come antropologo della velocità di mutazione delle procedure nei processi amministrativi ora siccome questa questione so della mutazione dei processi amministrativi per i diversi contributi che ha detto su Luman ti so abbastanza chiari abbastanza cari oltre che chiari mi sembra evidente che due o tre parole su questo tipo di questione vale la pena di commentare sostanzialmente ma soprattutto il rapporto al testo che hai fatto un'altra questione a mio avviso molto interessante è il rapporto tra accelerazione e catastrofe che avevi ripreso nell'intervento che a mio avviso è sostanzialmente centrale nella definizione non solo di che cos'è la dromologia in Verilio cioè una scienza della velocità che a sua volta è scienza della catastrofe ma anche soprattutto per una sostanziale circolarità tra velocità e catastrofe che si gioca in Verilio ovvero sia è evidente che ogni nuova innovazione ogni innovazione tecnologica produce dei potessi catastrofici cioè secondo la regola aurea che ogni macchina produce una nuova modalità di incidente ma anche una nuova modalità di incidente psichico allo stesso tempo ogni elemento catastrofico produce l'innovazione del suo superamento è una circolarità che in Verilio è continua da questo punto di vista qui ed è una circolarità che stiamo attenti a una profonda radice onerica per il solo fatto che e questo mi riferisco all'osservazione di antropologi cinesi sul nostro mondo noi abbiamo un rapporto straordinariamente intrecciato tra onirico e tecnologia cioè la tecnologia è la soluzione procedurale dei nostri sogni cioè per noi in un'epoca di epidemia incontrarci in uno spazio digitale nonostante così le difficoltà è oggettivamente un sogno realizzato dall'evoluzione tecnologica in Verilio tutto questo è presente ed è presente anche un rapporto molto forte tra sogni e catastrofe anche questo circolare ecco questi sono temi ringraziando appunto Federico Montanari già con un'asta che sono intervenuti su facebook cosa come tutti sappiamo non è mai facile ecco questi sono i temi oltre quali oltre all'intervento di Paolo ti chiamo devo dire molto volentieri a commentare sì grazie grazie ad entrambi i vostri interventi anche mi hanno fatto venire in mente altri 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 motivi di sviluppo diciamo così del del lavoro di Virilio e anche della mia insomma attenzione nei confronti di questo di questo autore rispetto a quello che ha osservato Paolo che cosa che cosa aggiungere io condivido diciamo lo spirito del suo del suo intervento in modo particolare apprezzo tutti i rimandi che hai fatto a una certa a una certa letteratura è vero che quando io ho preso in considerazione Virilio i suoi anche divertenti appunti sulle modalità tecniche di accelerazione della della nostra della nostra esistenza quando ho preso in considerazione Virilio proprio anche rispetto alla centralità dell'automobile no in una determinata stagione della vita sociale della vita economica del secolo scorso che ancora comunque non è non è non è conclusa quando ho preso in considerazione le pagine di Virilio sull'automobile no su tutto ciò che che ci restituisce come degli esseri senzienti per dirla con Ballard che vedono sempre di più consumato consumata no la dimensione del loro sentire della loro della loro sensibilità quando ho preso in considerazione Virilio in quella prospettiva mi sono divertito d'altra parte con Silvano poi abbiamo fatto un lavoro qualche anno fa insieme su Virilio toccando anche questo aspetto mi sono divertito a citare André Gorz no Gorz negli anni negli anni settanta in apertura degli anni settanta scrive un saggio che poi è contenuto lo si può leggere in traduzione italiana tra l'altro in quella raccolta della Yaka Book di una decina di anni fa che si intitola Ecologica un saggio straordinario sull'automobile segnalando l'importanza del passaggio dell'automobile da oggetto di lusso a oggetto di massa e come tale fattore fondamentale per la velocizzazione dei nostri modi di vivere con tutte delle negatività che appartengono al fatto che comunque i nostri modi di vivere sono modi di vivere calati dentro a uno spazio che ha una determinata dominante che è quella della legge del valore del plus valore per dirla sempre in termini molto brutali troppo troppo rapidi mi hai fatto venire in mente poi Paolo con i tuoi rimandi mi hai fatto venire in mente al di là della centralità del richiamo che hai fatto a Wenders no? mi hai fatto venire in mente di Wenders proprio il suo film quello che ha come titolo nel corso del tempo no? che poi è un testo anche segnato dalla collaborazione in quegli anni di Wenders con Peter Antke no? e in in quel film che è un film di movimento no? è la trilogia del viaggio come tu giustamente hai ricordato quella quella di Wenders alla quale appartiene anche questo film straordinario per la mia generazione ma insomma è veramente un film notevole nel corso del tempo a un certo punto uno dei due protagonisti che viaggiano su questo camion cercando in modi diversi di recuperare superando paesaggi luoghi importanti soprattutto per la vita di Bruno che è il protagonista proprio di questo film ecco l'altro protagonista di questo film Robert se non ricordo male a un certo punto in questo viaggiare senza fine praticamente interminabile a un certo punto Robert osserva stimolato dall'amico da Bruno chiamato a riflettere a ripensare sulla propria vita sulla propria esistenza a un certo punto se ne esce con questa affermazione che a me ha sempre colpito dice io cosa sono chi sono sono la mia storia cioè sono il complesso delle vicende che ho vissuto dei movimenti che mi hanno visto protagonista oppure all'interno dei quali sono stato coinvolto io sono la mia storia ecco in questa prospettiva in questa ottica viene fuori una sensibilità diciamo autoriale no di scrittura romanzesca tra virgolette viene fuori una sensibilità che è vero come hai sottolineato giustamente può trovare poi trova degli interlocutori anche nella letteratura italiana tu hai fatto benissimo a citare Arbasino si può citare anche Calvino ma ancora di più e meglio si possono citare forse i narratori delle pianure a partire da Celati arrivando poi fino a tutti coloro che si sono mossi negli anni ottanta e negli anni novanta a partire dalla lezione di Gianni di Gianni Celati e poi ecco poi dopo concludo concludo queste poche mie battute leggendo un passo di Peter Antke che secondo me può essere anche riferito rapportato a quello che tu dicevi su Chul Han questo saggista un po' controverso perché insomma è molto bravo ma è un assemblatore estremamente acuto comunque intelligente di motivi di temi che sappiamo poi avere una rilevanza che forse va al di là dell'assemblaggio realizzato da Chul Han però appunto Chul Han ha scritto questo testo molto questo saggio molto molto simpatico molto gradevole sulla società della stanchezza no che è la stanchezza proprio ciò che noi sentiamo nel momento in cui siamo costretti a vivere tempi sempre più rapidi e più veloci no a livello lavorativo a livello comunque relazionale di rapporto con 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 l'esterno ecco Antke che ha scritto anche lui delle pagine straordinarie sulla stanchezza ci fa vedere anche la possibilità di rivoltare la stanchezza di non subirla soltanto come una condizione negativa ma di trovare all'interno della condizione della stanchezza no una punta di possibile diciamo così rinnovamento del nostro modo di muoverci di camminare di sentire e e di fare adesso poi vi leggo questo passo sono poche righe se me lo permettete rispetto a quello che ha detto posso interrompere tu il secondo c'ho due domande interessanti vai cosa preferisci Antke prima o dopo lo so quello che diciamo anche di Antke per metterla proprio su un piano terra terra secondo me non si butta via niente anche l'ultimo l'ultimo romanzo adesso io l'ho preso in traduzione italiana perché non ho tempo non ho non ho veramente tempo per per leggerlo nell'edizione originale poi non ne ho più neanche le competenze le ho perse ho preso l'ultimo l'ultimo romanzo che è stato pubblicato no e tradotto in italiano e ho cominciato a leggerlo le prime pagine sono già notevoli è vero a me piace piace Antke nel momento in cui riesce qui se 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 mi sentono i critici appunto letterari gli storici della letteratura mi devono scusare ma la butto lì io sento in Antke in Antke mi piace di Antke soprattutto questo suo confondere in maniera straordinaria il piano saggistico con il piano più propriamente letterario mi interessa molto poi ci sono dei capolavori infelicità senza desideri la donna mancina sono dei testi dei testi dei testi straordinari quindi mi va bene tutto la seconda domanda qual è? no la seconda domanda è più ti volevo portare l'indicazione dei nostri amici allora confesso che mi sembra di essermi trasformato in quelli che nelle radio leggevano messaggini le trasmissioni è una cosa anche molto simpatica allora innanzitutto c'è un saluto da parte di Salvatore Regione che ti ringrazia ci ringrazia e che ringrazio non so se mi spiego ringrazio molto volentieri poi abbiamo una domanda da parte di Stefano Mazzone te le riporto tu poi svolgi come preferisci Nassuto ti saluta e ti chiede un parere sulla relazione tra Virilio e Deleuze Guattari rispetto al concetto rizomatico di macchina da guerra è oggettivamente un tema molto interessante poi c'è una domanda di Davide Gelmetti che saluto e proprio da un tema molto simile dice alla luce di come viene ripreso Virilio e Mille Piani appunto la domanda è molto specifica cioè quando è possibile capire che l'accelerazione tecnologica si sta disponendo in una prospettiva di fuga oppure quando avviene il contrario cioè ovvero sia che l'accelerazione tecnologica è sostanzialmente un dispositivo di controllo quindi è una domanda anche questa molto interessante che riguarda un vero e proprio orientamento fenomenologico rispetto a questo tipo di tema per quanto riguarda anche ti confesso che ho ripreso un vecchio testo comprato in Germania ma lo sto rileggendo e ti posso assicurare quando c'hai un po' più di tempo secondo me ti ributterai molto volentieri nella lingua madre questo è un aspetto così te lo dico in termine molto partigiano quindi ti ringrazio e ringrazio gli amici che hanno posto queste domande bene non so sono domande molto molto interessanti molto molto belle ecco io sono anche debitore rispetto all'intervento di Silvano ma lo prendo come stimolo diciamo per studiare di più e studiare meglio perché quel piano lì è un piano veramente fondamentale per capire ancora gli effetti importanti di ricaduta della lezione di Viriglio in spazi all'interno di spazi che vogliono essere anche di lettura critica di ciò che accade di ciò che succede quindi hai fatto benissimo Silvano a ricordare questo altro piano di ricerca all'interno del quale la spesa di Viriglio può essere veramente 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 proficua poi suo Ant che figura è uno dei miei scrittori preferiti da una vita ormai quindi su quello va benissimo confrontarci rispetto alle altre osservazioni di Stefania e di Davide che saluto veramente con affetto ringraziandoli anch'io per essere presenti direi direi questo cercando di mettere assieme le loro osservazioni direi che Deleuze e Guattari è vero che intervengono soprattutto ovviamente all'interno di mille piani su Viriglio riconoscendo da una parte ma Deleuze lo farà anche in altri luoghi riconoscendo l'importanza del lavoro sulla velocità di Viriglio ma imputando fondamentalmente a Viriglio una sorta di monodimensionalità che andrebbe a caratterizzare appunto l'universo della velocità cioè il discorso di Viriglio sarebbe per Deleuze e Guattari un discorso che non vede la pluralità propria specifica che sarebbe costitutiva del tema del motivo della velocità non esiste una velocità per Deleuze e Guattari esistono diverse differenti velocità questa differenza per riprendere poi l'osservazione di Davide Gelmetti questa differenza può essere messa a valore in maniera simpatica per Deleuze e Guattari nel momento in cui viene riportata fatta propria appropriata da gruppi di utenti o di soggetti che vengono a essere coinvolti nelle diverse dinamiche dell'accelerazione a livello tecnologico a livello sociale a livello temporale si potrebbe dire con Hartmut Rosa è il richiamo alla soggettività politica fondamentale per Deleuze e Guattari nel momento in cui è la soggettività politica che può diciamo così disporsi nei confronti del complesso delle dinamiche di velocificazione della nostra realtà in modo tale da apprezzarne alcune elaborarle e renderle quindi importanti e significative per l'articolazione di pratiche di processi meglio ancora prima di progetti diciamo di liberazione o di emancipazione in un qualche verso in una qualche in una qualche forma la macchina la macchina da guerra è sempre in prima battuta una macchina spinoziana cioè una macchina fatta di affezioni fatta di affetti fatta di sentire e di intelligenza insieme e anche sulla macchina da guerra poi sappiamo che è un grande tema di mille piani e bisognerebbe ragionarci in modo tale da accoglierne la valenza di parte ma di parte di una parte che è complessa è una parte agitata è una parte riempita e poi come posso dire slabbrata dalla presenza al suo interno di corpi insomma di sangue di bisogni di desideri ecco però è veramente un bel tema bisognerebbe bisognerebbe parlarne 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 più a lungo poi ho probabilmente dimenticato qualche cosa ma spero do la parola a Paolo che magari recupera Silvano meglio di me alcune delle sollecitazioni di Stefania e dell'altro amico Paolo Paolo prima che ti accorga appunto perché sollecitazione di Ubaldo cosa che io non faccio perché tutti dobbiamo cenare prima o poi se no oggettivamente no ci si porta via del tempo c'era Simona Simona Corradini che saluto che rimetteva al centro il concetto di città di oggi e di domani in Virilio e questo è un aspetto che due parole Ubaldo si chiamano volentieri vista l'origine disciplinare di Paul Virilio e c'è anche Ducillo Fontani che saluto che ti saluta e che fa un così un paragone di immediatezza tra ciò che dici e spasmo di bifo quando proprio parla di questo doppio processo che noi diremmo tipicamente bifiano ma in senso positivo di accelerazione e di esaurimento Paolo ti giro la parola così poi la ripassiamo a Ubaldo e poi facciamo una chiusura salutando chi ha avuto la pazienza di seguirci fino a questo momento sì volevo giusto dire due parole su appunto su fino alla fine del mondo questa altra suggestione di Wenders il cinema di Wenders sì sicuramente anche viaggio ricorso dialettica sogno incubo non luogo certo il viaggio è assai presente in tutto il cinema di Wenders ma è presente anche in un film che apparentemente potrebbe sembrare statico come il cielo sopra Berlino e invece è tutto un viaggio all'interno degli spazi chiusi delle case all'interno dello spazio dei non luoghi di Berlino è tutto un peregrinare è tutta un'erranza nomadica fatta all'interno di uno spazio più piccolo che fa il protagonista dentro la città di Berlino fino alla fine del mondo sicuramente è il film di Wenders in cui il viaggio si espande in maniera iperbolica dotato di tutte queste in cui i personaggi sono anche dotati di tutte queste questa ipertecnologizzazione che caratterizza questo questo spazialità questo mondo questo mondo futuro che caratterizza il film sicuramente sogno incubo non luogo poi si ancora una volta la presenza del del non luogo questa atopia questa immagine di questo non luogo inteso anche come nel senso di di oggi insomma un luogo qualcosa di che non in cui non ci riconosciamo più noi stessi non riconosciamo più le nostre le nostre caratteristiche tradizionali di spazio di spazio tempo ecco sicuramente sì anche fino alla fine del mondo in questo senso molto molto interessante bene sì sono d'accordo Paolo prego ti lascio la parola ah bene grazie molto rapidamente anche rispetto alle altre osservazioni le faccio mie dico 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 soltanto rispetto al ragionamento di Silvano che è riferito al mondo dell'amministrazione diciamo al sistema sotto sistema dell'amministrazione dico soltanto che come sempre recuperando il vecchio il vecchio luman vale quel mondo lì nel momento in cui ha valore quel mondo lì nel momento in cui si struttura sempre più velocemente rapidamente nel senso di arrivare a selezionare nel modo più opportuno questa se non ricordo male è la regola prima dell'approccio del modo in cui l'uman considera i funzionamenti di tutti i diversi differenti sottosistemi sociali che costituiscono la nostra società e quindi anche il sottosistema dell'amministrazione diciamo non sfugge a tale a tale regola rispetto agli altri agli altri alle altre osservazioni sì il motivo della città è centrale giustamente anche anche Silvano l'ha indicato è centrale nel nel ragionamento di di Viriglio ne scrive in continuazione adesso c'è anche un testo suo molto 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 gradevole di facile lettura che si intitola città panico tanto per dare un'idea insomma del modo con cui in cui Viriglio legge le trasformazioni della città in realtà poi per Viriglio che ovviamente ha uno sguardo anche storico quindi ricostruisce anche l'avventura del del tessuto del tessuto propriamente urbano ma insomma si potrebbe dire che per Viriglio la città non esiste più nel nostro mondo nel nostro presente la città non esiste più esiste un groviglio di vie e di strade a livello materiale ma però anche a livello immateriale rispetto al quale groviglio vale la pena richiamare il fatto che noi abbiamo diritto alla strada per citare Henri Lefebvre che è uno dei padri insomma anche per in fondo per Viriglio di questa attenzione sociologica alle trasformazioni della città ecco noi abbiamo il compito che è un compito squisitamente politico di riaffermare il nostro diritto alla strada questo vale per la strada quella che abbiamo sotto casa ma vale anche per le strade le vie del mondo diciamo così del digitale però insomma è veramente un altro piano di ricerca su cui Viriglio ha scritto delle pagine delle pagine fondamentali che vi invito a leggere a rileggere perché ancora oggi vale 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 la pena non vi leggo il passo di Ant che perché se no si fa tardi ho dimenticato l'ultima osservazione che mi hai richiamato l'ultima questione che è stata posta il rapporto con Bifo ah il rapporto oddio il rapporto con Bifo con Franco sì io sono per così dire per ragioni autobiografiche sempre in anche per ragioni autobiografiche sempre in sintonia spesso in sintonia con con Bifo no con con Franco con Franco Berardi io e questo veramente è un punto che richiamo in direzione di di Bifo ma richiamo soprattutto in direzione di Beriglio io sono abbastanza convinto che ogni tanto nel lavoro di Beriglio e anche di altri amici venga fuori un'idea del del processo storico come qualche cosa che poi alla fine produce soprattutto rovine rovine e dato che io sono per formazione un tra virgolette Francofortese mi sono laureato su Walter Benjamin io ho in mente no proprio la lettura che Benjamin da di questa raffigurazione della realtà del mondo sotto quale veste sotto la veste di una produzione incessante continua di rovine no e anche poi le rovine possono essere viste oggi come il prodotto il risultato delle dinamiche di accelerazione sempre più sostenuta no che sono dominanti all'interno della nostra società ma la centralità della rovina la centralità delle rovine è sempre specifica in un modo di considerare la società il mondo la nostra posizione all'interno della realtà all'interno del mondo di un modo di considerare il mondo che è profondamente posso dirlo profondamente e non è assolutamente eh un apprezzamento no che vale nascosto come disprezzo è un apprezzamento nel vero senso della parola no è un qualche cosa di profondamente cristiano di profondamente cristiano di profondamente cattolico eh questa idea che nella nostra realtà sia soprattutto centrale e presente no qualche cosa che non fa altro che produrre incessantemente rovine no io lo so è vero purtroppo è una constatazione che tutti noi possiamo fare non sono convinto fino in fondo che eh il concetto di eh rovina no sia un concetto insomma così eh così innocente come qualche volta appare perché appare all'altezza dei nostri tempi perché ci restituisce eh meglio al meglio i disastri che stiamo vivendo no che viviamo eh che viviamo ogni giorno per non dire tutti tutti i giorni ecco no ma era un appunto che mi è venuto non non nei confronti di 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 Franco rispetto al quale sono veramente lo ripeto eh quasi sempre in sintonia e imparo un sacco di cose insomma da da ciò che che scrive però c'è questa questa come dicono i tedeschi Silvano questa Stimung no eh che viene fuori e che appartiene al profondo della nostra forma di civiltà eh e questo profondo è fortemente segnato da quello che etichettiamo come come cristianesimo no con la sua particolare sensibilità e il suo particolare modo a volte di a volte non sempre di considerare la nostra posizione al suo al suo interno ecco direi questo Silvano io dico due cose per salutarci tutti innanzitutto ha scritto Vittorio Biagini che ringrazio e che a sua volta ci ringrazia per il bellissimo incontro come direvano gli allenatori durante le interviste i complimenti fanno sempre piacere Vittorio e ti ringrazio e rimanda una prosecuzione di questa discussione per lunedì 18 dicembre alle ore 18 nell'ambito degli incontri di Quinto Alto dove oltro baldo ci sarà notiziana Villani che già ti dico dal vivo di salutarmi e l'incontro si chiamerà effetto velocità colpi e resistenza in polveriglio due cose per chiudere considerando io quando sento la parola cristiano come direbbe alcuno tolgo la fondina della mia pistola però dobbiamo stare attenti a un aspetto estremamente importante il concetto di accelerazione e velocità come abbiamo detto all'inizio è un concetto teologico e che riprende sostanzialmente del dettato biblico la parte legata all'apocalisse le rovine sono ciò che precedono l'apocalisse da questo punto di vista e quindi bisogna andare sostanzialmente a pescare in questo patrimonio antropologico di chiara matrice cristiana anche la rielaborazione di molti concetti della teoria critica non è un male ma sostanzialmente dobbiamo saper riconoscere il materiale che stiamo utilizzando sia per utilizzarlo bene sia per evitare degli effetti collaterali oggettivamente in giro parecchio millenarismo travestito da pessimismo culturale su questo mi sembra evidente ci ringrazio anche Anna Maria Pagliusano che ringrazio per l'intreccio di relazioni analogie e raccordi fatti in questo incontro ovviamente ti saluta noi all'inizio ci abbiamo messo Diego Armando Maradona tanto per arricchire i corsi a me si chiama i rimandi e con questo appunto ricordo questo grandissimo artista del pallone chiudo vi ringrazio molto ringrazio molto le persone che ci hanno seguito vorrei lasciarvi Ubaldo in privato quando metto end broadcast così ci salutiamo e invece in pubblico vedo anche c'è un messaggio di Anna e Maria Filippi e che dice spera avere occasione di ascoltarvi ancora molto denso anche il rapporto medico tecnologico io Teresa Filippi anche a nome di tutti ti ringrazio e speriamo soprattutto di sentirci presto buona serata a tutti saluterò i nostri amici in privato e saluto tutti gli amici che ci hanno pazientemente seguito fino alla fine in pubblico